In caso di vendita con delivio, se fa necessario l'uso del pastorizzatore? No, il pastorizzatore per me non è necessario, in un sentito che è necessario se facciamo grandi quantità. Dice, oh, bello, io non delivio e vendo, faccio un esempio, 200 kg di sorvecchi per dia, 300 kg di sorvecchi per dia, è necessario. Allora, in un comienzo, assolutamente no, William. Sì, ma despesa è necessaria, a non sé che è collocato, a fare un negozio. No, diciamo che c'è in alcuni lugares nel Brasile, perché, in realtà, la pastorizzazione nel Brasile è obbligatoria, e c'è in alcuni lugares nel Brasile, oggi, il servizio sanitario, la vigilanza sanitaria, e cobra questa cosa. Aí, você può parlare che pastorizza con una pannella. È una forma di pastorizzazione, quella também. Io non vejo perché, in un comienzo, un emprendedore che sta comienzando di zero, che o meglio già, colocò abbastanza di dinero nella mesa, per abrire il suo negozio, deve gastare, sei lá, 60 mil reais, 40, 50 mil reais, per pastorizzare, o che già è pastorizzato, ademais. O lecce è pastorizzato, il creme di lecce è pastorizzato, le altre cose, sappiamo che non bisogna di pastorizzazione, açucar e tutte queste cose. Ora, è obbligatorio, in Italia, per esempio, non è obbligatorio pastorizzare. Perché? Perché, ripeto, tutto che entra dentro della sorveteria è controllato, etiquettato, già pastorizzato. Io posso entender, antigamente, gente, a 40, 50, se immaginare, 60 anni fa, in 1940, quando praticamente chi fa le sorvelle pegava lecce, chi sape dove, aí posso entender, misturava, fazia le sorvelle, sei lá, non sape dove, sujo pra caramba, ma se a gente non c'è un'etica professionale, che vuole dire che trabalha certissimo, rispettando non solo le regole di higiene, perché non si tratta di rispettare le regole di higiene, si tratta di essere etico. Perché? Perché dopo il sorvelle irà anche per il suo figlio, per i miei amici, io faccio sempre la brincadeira, per la sua sogra, quindi, se no, posso colocare il veneno all'interno, no, brincando, ma hai che pensare nisso, hai che pensare che è un prodotto che irà per i seus familiari, i seus seres queridi. questo è a livello etico, e, ripeto, além di quello che è, perché la vigilanza sanitaria si viene, io posso, sei lá, limpar in quel momento, ma poi posso essere la persona più suja del mondo, e lavorare di una forma non etica. È importante, ripeto, e, dopo, una volta che hai l'etica profissional, atrás, no, viene la limpeza, viene il uso di materie primi di altro tipo, eccetera, eccetera. Ma, ripeto, questa storia di pastorizzazione, infelizmente, qui nel Brasile è obbligatoria. Bom, colocare un fogo a induzione, una panella, quando entra qualcuno che ti dice, se pastorizza, oh, qui sta. Chego a 85 graus, immediatamente, quando chega a 85 graus, coloco, deixo per 15 secondi, e poi coloco direttamente nella macchina. Olha, è la miglior forma di pastorizzazione, perché il shock termico è così rapido, che, allora la bacteria non si dà ne conto di quello che sta succedendo. Vai di 85 a meno 10, e dici, e allora, che è successo? non dà tempo di fare nulla per loro. a a a a a a a a Grazie a tutti.